Ecco ancora Menea che sta provando la sua posizione, trova anche il momento di un sorriso appena accennato ed eccoli al via. Menea è ancora sulla curva, leggermente attardato, vedete che Lara è in buona posizione, si distende poi con estrema facilità, seguito da fuori poi dal polacco Dunechi e quindi dall'Ara. Bravissimo Piero, ecco questa volta 20.70 è il risultato cronometrico, c'è la conferma di quanto avevamo detto in precedenza.